Tra Monza e Torino è uno a uno. Al Brinteo sfuma la terza vittoria di fila. Granata pericolosa, con Zapata. Ladrick segna ma dovere a nulla per farlo di Zapata. Gagliardini impegna Milinkovic-Savic. Passa il Toro con Ilicic, 55esimo. Milinkovic-Savic salva su Colpani. Ma, capito, la gioiello del Monza in campo. Aperto, 65esimo. Di spreco dice no a Ilicic. Sanabria spreca con il tapivo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao. Grazie. Grazie.